In questi giorni si è accesa una fortissima discussione in Parlamento e fuori dal Parlamento sulla messa all'asta delle frequenze televisive. Devo dire che questa discussione ce la siamo portata dietro anche negli anni terribili del governo Berlusconi, ma avevamo abbastanza chiaro che c'era un'indisponibilità visto il conflitto di interessi che riguardava il Presidente del Consiglio di allora. Quello che stupisce oggi è che di fronte ad una manovra finanziaria molto dura, alla ricerca spasmodica di risorse per dare una mano al bilancio dello Stato e far uscire l'Italia da questa crisi, un possibile gettito di quasi 6 miliardi di euro dalla messa all'asta delle frequenze venga derubricato come problema da non discutere. La cosa che mi preoccupa moltissimo è che il governo è cambiato, abbiamo il Presidente del Consiglio Monti, abbiamo un Ministro alle attività produttive come Passera, ma Berlusconi si può ancora permettere su questo tema di dire cosa bisogna fare o cosa non bisogna fare. Il Partito Democratico su questo terreno intende dare battaglia perché le frequenze vengono messe all'asta, si recuperano le risorse e magari si possa aiutare in qualche modo a diminuire i sacrifici che vengono imposti alle pensioni minime e alle persone che devono andare in pensione e che rischiano di dover rimanere tanti anni al lavoro per raggiungere i nuovi criteri previsti dalla legge per andare in pensione.